Mi chiamo Alida Canezza, ho 22 anni e adesso vivo a Brescia, ma sono originaria del Burundi e sono in Italia da due anni. Sono stata eletta Miss Burundi nel 2009, sono una studentessa, sono il primo anno di economia. Mi chiamo Miss Kag, che è praticamente l'iniziale del mio nome, Canezza Alida Gloria. Uso più spesso Facebook? No, c'è Twitter, Instagram, quello che uso più spesso è Facebook, quello che ha creato Facebook. Un follower è quel che segue, una star qualunque, è un fan, posso dire, per esempio io se mi piace Rihanna è che ascolta tanto la sua musica, quindi sono una fan di Rihanna. Di solito mi faccio tante e poi alla fine mi scelgo. Mi faccio guardandomi nello specchio. È molto carino, mi piace. Baccio. Lo chiamiamo Toccienza. Tranquillità o riposino. Grazie a tutti.